Allora, ciao a tutti, qua Giuseppe Pizza Sono, vabbè, appena questo è il mio primo video, questo account, perché ne avevo fatti altri in altri account Finalmente sono riuscito a impostare il suono perché ne avevo fatti altri 5 di video e il volume col microfono non mi funzionava Finalmente funziona E, comunque, vabbè, farò la campagna di amnesia, ora devo iniziare da capo, però vabbè Facciamo la campagna di amnesia, poi farò anche altri giochi, credo che nel mio canale farò, iniziamo, credo farò Minecraft Terraria, non lo faccio nel mio canale C'è un mio amico che si chiama XXJamXX Che lo faccio con lui, prima avevo il nome di ThePizzagame, invece adesso l'ho cambiato E vabbè, inizio Shadow hunting me, I must hurry My name is Daniel, I live in London, at, at, Mayfair What have I done? This is crazy, don't forget, don't forget I must stop him, focus My name is, is, I am Daniel Mi chiamo Giuseppe Mi sono rimasto male, non male, bene La risoluzione è quasi al massimo Almeno da me è quasi al massimo Ci sono un po' di cose che non sono al massimo Eppure con frappe se mi va a prenderlo E vabbè, passiamo Ancora non ho capito se ancora se lo manco di sangue Scusate se lo faccio un po' veloce, ma dopo 5 volte che faccio questi due video Allora, quindi vi spiego quello che ho preso Ho legato anche degli altri 5 video Qua nella campagna non credo Non credo che dentro i vasi ci sia qualcosa Quello non so Io ho guardato un po' di video E ho deciso di fare l'arnese perché mi piaceva Ma mi sa che Ho la mania di prendere Come tutti quelli che giocano l'arnese Prendere cose che faccio Ah, comunque stavo dicendo Vabbè, dentro i vasi, nelle casse costoriche Farò affrontare le porte che si aprono E mi interrompono come in tutti gli altri video Io sono stupido Farlo quando Vabbè Vabbè, sto dicendo Nelle custom store dentro i vasi Di solito ci sono chiavi E oggetti vari Gli armadi Sono sacri Quando c'è un mostro Guardate dentro l'armadio E state un'ora e mezza a piangere lì dentro Sperando che se ne va Mentre lui ti gira davanti Proprio davanti all'armadio Tu non puoi fare altro Nel cagarti sotto Non pentio Non capisco cosa è Non capisco cosa è Non capisco cosa è Non capisco il personaggio mi sa che abbastanza da freddo, non ti promuovere allora, ti do un consiglio io qua l'ho già fatto però quando vedete porta a crisi da solo di solito ci dovete entrare perché tanto alla fine non vi metteranno mai che ti ammazzano a meno che non sono custom story però succede una cosa non sto giocando al massimo perché gioco con la luce accesa come avete visto ora non riesco non vedo i tasti ogni tanto non vedo allora, io non ho guardato neanche qui in Rairo vabbè, io so il pezzo più o meno dove formare ma i primi pezzi sono più che altri non ho guardato le identituzione non ho guardato i grandi e voglio da qui sperimentare è un po' perché ero in cento di spazio via 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 La testa sbatte le mani utili Ah eeeh Cioè non vedo Non trovo quelli nascosti Quelli in vista No non ancora Non è che corre più di tanto Questi sono casse stane Devo togliere quelli nascosti Ma ora non mi rivolgo Non vorreste poter Ma vabbè Non ci fa niente dai Adesso io Ma come la sensazione Questo video non venga neanche Vi Via 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 both Daniel descend into the darkness where Alexander waits and... Oh, that's not the thing. It's not the thing. If I had the glass and the glass, I would have put a bunch of glass. The light is spent... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenberg. I have a lot of water. 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 Well, he can drink it. Here is my first place. While... I am not drinking. Mi sono cagato sotto Non mi sentirete quando mi spavento Perché veramente ho sentito il petto sbattere Mi sono cagato Vabbè non ce l'ho fatta Vabbè finisco qua e continuerò nel prossimo video Il primo video Il primo video è già il primo video Vabbè finiamo qua il primo pezzo Da qui Giuseppe Pezzo